Buongiorno a G-Force GTX 1180 Bellissimo questa descrizione, lui è veramente geniale grande e bello figo fate mangiare il gracilino oddio che tempo? de merda fallout ragazzi però è geniale sotto questo punto di vista che cazzo è? ma che cazzo è? la faccia della piadina non è questo ma vaffanculo ok a posto eviterebbero alla fine abbiamo ceduto siamo andati di espresso anche qui cioè per anno l'astinenza tra l'altro potere di Grayskull ma secondo me lo riconosci lo riconosci o in base alla concentrazione di nerd o all'abbondanza di verde è sicurissimo no guarda se è come hostess si riconosce adesso arrivano le hostess fra hostess o scheda video? è una battagliaccio in SLI in SLI eccolo lo vedi? c'è la scrittona NVIDIA ah eccolo si infatti bello bello momento di salire a bordo delle NVIDIA dopo sta corsetta si è meritato dai meritatissimo tutto problematà a voglia direi che così è per questo ci facevamo ancora un paio di volte molti indietro sbrocco foto foto vuoi fare l'estremo chi si mette alla fine dell'autobus? i cattivi allora Cesare se tu vuoi fare una cosa iniziati già a scrivere l'articolo c'è proprio la base appena viene annunciato novità pum foto te la scarichi metti l'articolo su scherzo l'arrivo chiesc 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 ok Grazie a tutti. 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 Ok, stiamo per provare Tom Rider con l'RTX. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un software italiano. Grazie a tutti. quando gli oggetti. con la magliette. non ce l'abbiamo portare. si pianifica, right? si pianifica a... nói su... e vi salutiamo perché siamo in mutanda ciao ok